E all'unimo loggio è stato esposto un campione di roccia lunare raccolto durante la missione Apollo 15 nel 1971. Vediamo. La luna portata di mano sembrerebbe un paradosso ma grazie all'associazione divulgazione astronomica astronautica invece è possibile. E oggi l'aula magna dell'università del Molise era stracolma di studenti, tutti curiosi di scoprire i segreti che si nascondono dietro questo piccolo frammento di roccia lunare. 109 grammi ed una storia di oltre 3 miliardi di anni. C'è la storia di un'impresa potente, quella degli americani che negli anni 60-70 decidono di fare qualcosa di mai tentato prima. E la missione in questo caso Apollo 15 è quella che riporta a casa questo campione insieme ad altri 77 kg. Questo è un campione di basalto che ha 3.3 miliardi di anni, quindi molto antico e ci racconta un po' la storia della luna. Queste rocce sono state colpite da micro meteoriti e presentano dei fori. Solamente un campione raccolto da mano umana e portato dentro una navicella può presentare dei fori sulla sua superficie. Da quando l'uomo per la prima volta ha messo piede sulla luna il 20 luglio 1969, le curiosità nei confronti del satellite naturale della Terra sono cresciute sempre più e grazie a questi piccoli frammenti sostiene lo storico del programma Apollo Luigi Pizzimenti noi oggi possiamo ricostruire parte della storia della luna ma soprattutto avere le prove scientifiche del fatto che effettivamente l'uomo sulla luna c'è stato veramente.